L'ASET, su questa argomentazione, voi avete fatto un comunicato con l'intento preciso di ribadire alcuni concetti che per voi sono estremamente importanti e basilari. Sì, Sinistra Unita, che è la forza politica che rappresento in Giunta, ha presentato una mozione per ribadire un concetto che per la verità era stato già espresso anche in passato, e quello cioè di mantenere anche in futuro la gestione di ASET in aus, cioè avere un'azienda pubblica in mano al pubblico. Siamo convinti che questa sia una proposta che incontrerà un'ampia maggioranza, trasversale probabilmente, in sede di Consiglio Comunale e che sia un modo anche di rispondere, almeno queste sono le nostre intenzioni, a un po' di uscite che sul fronte peserese abbiamo riscontrato nei mesi scorsi da parte di esponenti del mondo industriale, dei dirigenti di azienda, che in qualche modo hanno non solo rilanciato, ma anche dato come ineluttabile il fatto che invece ASET vada incontro a processi di fusione, di inglobamento con soggetti terzi. Noi riteniamo invece che questo sia un piccolo gioiello che debba rimanere per il nostro territorio assolutamente pubblico, un bene comune per la città di Fano e per i cittadini fanesi. In questo senso rispediamo un po' al mittente alcune polemiche che il centro-destra ha voluto attivare nei confronti del sindaco Seri, a cui confermiamo il nostro sostegno ma anche la nostra fiducia, perché in questi anni è stato possibile, anche grazie al suo impegno, raggiungere un primo importante risultato che è stato quello della fusione tra ASET Holding e ASET SPA. Ora ci sono altri passaggi che vedranno in futuro anche collaborazioni importanti, probabilmente anche con soggetti privati, ma a maggior ragione è importante in questo momento esplicitare e mettere nero su bianco, a partire dal Consiglio Comunale, che ASET è pubblica e rimarrà pubblica, perché è un bene della città di Fano ed è un bene che deve rimanere in mano ai cittadini fanesi.